Se fosse calcio e non politica, quello di Anna Elsa Tartaglione, coordinatrice regionale di Forza Italia, sarebbe un intervento alla Romeo Benetti, durissimo quindi. E tale appare la nomina a capodelegazione in giunta di Nicola Cavaliere. Da qui in avanti, dice Tartaglione, nessun atto, nomina o provvedimento potrà essere attribuita a Forza Italia se non concordato con il partito. A rappresentare Forza Italia in giunta sarà Nicola Cavaliere, sarà lui a relazionarsi col governatore e con la sottoscritta per le decisioni da assumere. Quella che in apparenza può apparire come una mossa di coordinamento è in realtà la cartina di tornasole di un malessere crescente all'interno del partito di Berlusconi. Toma non ha mai fatto mistero di considerarsi uomo di Forza Italia e fa quindi riflettere l'iniziativa di Anna Elsa Tartaglione, poiché evidenzia la incomunicabilità tra il massimo livello istituzionale e il vertice del partito su base locale. Tartaglione, cosa nota, non ha gradito la fuga in avanti di Toma che ha riproposto la sua candidatura. La coordinatrice è restata molto abbottonata e si è limitata ad una difesa d'ufficio del governatore. Pensiamo a lavorare a detto e prematuro parlare adesso di candidature. Insieme agli altri partiti di centrodestra, Tartaglione si è dato appuntamento tra fine agosto e i primi di settembre per ridare slancio al centrodestra, dice Preoccupa, aggiunge, che in consiglio regionale continui a mancare una maggioranza. Va ricordato che attualmente i rappresentanti a Palazzo d'Aimmo di Forza Italia, oltre a Toma, sono Armandino De Giglio, il sottosegretario Roberto Di Baggio e appunto Nicola Cavaliere che alle ultime regionali risultò il più votato del partito.